gol di Rantanen, che è un finlandese. Ed eccoci all'incontro fra Glasgow Rangers e Borussia Mönchengladbach, finito in parità, l'unico pareggio 1-1, la partita è stata diretta da Kasarin, si è giocato a Ebrox Park, pioveva e con l'azione del primo gol al quarto d'ora, Nikol serve Durrant in aria, anche qui il controllo forse è viziato da un fallo di mano, c'è qualche protesta, rivediamo la parte finale dopo che Fraser ha servito per Nikol e lancia in profondità, Durrant probabilmente controlla aiutandosi con il braccio e fionda in porta al quarto d'ora, ma prima che finisca il tempo stiamo seguendo l'azione del pareggio della formazione tedesca del Borussia che conquista questa palla proprio a centrocampo, c'è un'apertura sulla destra per il tensino Winkold che va via bene lungo l'out, crossa perfettamente al centro dove trova liberissimo Rahn che di testa realizza il gol del pareggio, anche questa azione possiamo rivederla per seguire proprio la fase finale con la fuga di Winkold sulla faccia destra, il preciso cross al centro, il smarcatissimo Rahn realizza l'1-1 del Borussia.